Mattinata da extra mercato per la Sidigas Avellino, legata, secondo Rumors, al caos dei dritti d'immagine in Serie A. Nove società, Scandone, Sassa, Rivarese, Cantù, Brindisi, Torino, Pistoia, Caserta e Reggio Emilia, sono coinvolte da fine marzo in un controllo della Procura Federale per la non corretta gestione dei contratti d'immagine e per lo scouting. Secondo la Gazzetta dello Sport, più della metà dei team di massima serie sarebbero quindi interessati nel caos dei dritti d'immagine. Per Avellino sarebbero destinatari di deferimento i vertici societari della Sidigas e i giocatori stranieri della stagione appena terminata, che avranno sette giorni di tempo per preparare e consegnare la memoria difensiva. Una bufera che coinvolge non solo la Scandone e che può portare dall'inibizione a Mende fino a punti di penalizzazione e anche alla retrocessione nei casi di riscontro di frode o illecito sportivo, un caso limite che al momento non si prefigura assolutamente per le formazioni di Serie A. Intanto, fronte mercato, Joe Ragland resta la prima scelta per la cabina di regia Erpina. L'ex Pinar si confronterà nelle prossime ore con i suoi agenti. La società bianco-verde attenderà la risposta di Ragland nei primi giorni della prossima settimana, forte dell'intenzione del giocatore di West Springfield che in caso di permanenza in Italia vestirà la canotta della Scandone. Per non farsi trovare impreparata, in caso di uscita di Ragland dalla Serie A, la Sidigas monitora altri profili come quello dell'ex Sassari, Markins Ains.